Bella ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono Silve Rala e oggi prima di parlare di Inter Empoli terminata sul risultato di 2-0 in favore dei nero zurri vi volevo ringraziare dei 600 iscritti, quindi ragazzi continuiamo così, road to mille, siamo sempre più vicini Ragazzi, Inter Empoli è un crocevia importante, rialzarsi dopo le sconfitte contro la Lazio in Coppa Italia e con la Juve a Torino o almeno la sconfitta, pseudo sconfitta ragazzi, perché noi ricordatevi usciamo sempre vittoriosi dai campi che solchiamo oppure magari lasciarsi andare alle polemiche e inutili perdite di tempo a cui abbiamo assistito durante tutta la settimana e magari fallire un importante match point Il crocevia però importante della stagione nero azzurra viene centrato in pieno e viene superato con un grande, grandissimo partita di Eder e soprattutto anche Candreva che è andato a segno Dunque, il primo gol è un bellissimo colpo di petto di Edersita di Martins che torna al gol dopo quello che aveva segnato col Pescara Suo assist sponda di testa di Palacio e questo gol già testimonia come nel progetto Pioli tutti possono essere dei protagonisti Oggi mancavano Perisic, mancava Brozovic, mancava Banega, mancava Icardi Ovviamente siamo riusciti comunque a segnare, lo abbiamo fatto anche in maniera concreta portando l'Empoli a doversi difendere praticamente per tre quarti dell'intera partita Il secondo gol è un grande destro al volo di Candreva con la complicità di Scoruspi che nel primo tempo aveva preso l'ira di Dio su Palacio e Gagliardini quindi un errore anche per Scoruspi ci sta anche se lo reputo un ottimo portiere era reduci anche dal rigore parato a Iago Falche che però non si oppone alla conclusione di Candreva che va a segnare il 2-0 Alla fine però bella la scelta di Pioli di inserire Gavi Gol che gioca sempre i suoi 10-15 minuti di partita lo fa anche discretamente bene, è buona anche la prestazione di Pinamonti che entra 10 minuti dopo Gavi Gol che dire, il progetto giovane, il progetto inter funziona, siamo usciti sconfitti da Torino abbiamo reagito oggi e ricordatevi ragazzi mancava anche un rigore, un calcio di rigore netto per farlo di Dio Sè su Eder ma noi evitiamo di lamentarci, andiamo avanti dritti per la nostra strada e continuiamo soprattutto a dare pressione a Napoli e Roma che ricordiamo ci verranno a San Siro a giocare in casa contro di noi quindi ragazzi abbiamo gli scontri diretti in casa, la partita con l'Empoli ormai archiviata ora prepariamoci perché ci aspetta un periodo difficile, un periodo in cui veramente sapremo se potremmo ambire in futuro alla Champions oppure accontentarci di un quarto posto magari con la speranza che l'anno prossimo l'Inter di Pioli ricominci come sta facendo ora ovvero con un piglio determinato, concreto, un piglio anche che porta tutti i giocatori a sentirsi parte integrante del progetto e questo ricordatevi è fondamentale quindi ragazzi grazie dei 600 iscritti, lasciate un like a questo video se siete d'accordo con ciò che ho detto noi ci rivediamo al prossimo e ultima cosa, vinciamo senza rubare, bella ragazzi grazie grazie